L'esperienza già maturata comunque in campo amministrativo dei Banchi del Consiglio, ora a quelli della Giunta, con che spirito? Con grande motivazione, devo dire la verità, ma anche con tantissima emozione. Ho avuto comunque sia possibilità di conoscere la macchina amministrativa e la ricchezza dei servizi culturali, educativi, di Cattolica in questi cinque anni. E questo ruolo, a cui sono stato chiamato da Franca Fronchi, a servizio della cittadinanza di Cattolica, è una grande gratificazione che porterò avanti con grande impegno. A Cattolica abbiamo la questione della scuola repubblica, che è sicuramente una questione annosa, ma non è l'unica scuola presente. Abbiamo un tessuto culturale, educativo e scolastico estremamente ricco e di grande valore, che dovrà essere ulteriormente valorizzato e ulteriormente cresciuto. Una delega che sono veramente contento di avere è quella delle politiche giovanili e il fatto che io sia un assessore comunque sia giovane può essere sicuramente un modo attraverso il quale nuovi giovani e nuove ragazze potrebbero anche avvicinarsi maggiormente alla politica, all'amministrazione di Cattolica.